Bitcoin ha iniziato una nuova fase di distribuzione e la prossima settimana inizierà a scendere, avremo nuovi problemi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a rispondere a questo quesito che comunque negli ultimi 2-3 giorni, vista la fase di barra di congestione, il fatto che il movimento di Bitcoin si sia in pratica ragazzi andato ad esaurire e dopo questa struttura di questa barra che vi sto facendo vedere su un time frame più breve ad un'ora, è uscita la questione legata al fatto che c'è il rischio che settimana prossima potrà andare giù tutto. Nel frattempo si sono aggiunte una serie di notizie molto rilevanti, tra cui un fallimento, quel di Genesis, era un po' nell'aria ma comunque è arrivato e a questo diciamo ragazzi, quindi questo fallimento di Genesis eccetera, potrebbe essere la miccia quello che fa scoppiare tutta la questione. Vabbè, allora oggi andiamo a vedere questo video, andiamo a comprendere questa cosa qui ragazzi, se effettivamente il rischio per la settimana prossima c'è sull'intero mercato, vediamo una serie di questioni, ma prima di tutto io lancio comunque ancora la mia moneta Bitcoin che ci sta portando un po' di fortuna, vediamo quanta dura questa cosa, ovviamente non è possibile che durerà all'infinito, ma va bene così. Allora ragazzi, iniziamo dalla questione Genesis. Genesis dichiara fallimento, capitolo 11 anche per il Crypto Lender, che era una sostanzialmente struttura, ve la faccio vedere anche qui, quindi era un exchange che si rivolgeva agli istituzionali, quindi faceva una serie di prestiti e poi rivendita relative a Bitcoin, quindi dava la possibilità all'istituzionale di fare OTC, acquisti fuori dai mercati, anche per evitare che si muovesse il prezzo di Bitcoin e delle altre cripto in maniera importante, quindi ovviamente era un pubblico il suo di istituzionali. Tra le altre cose, aveva già avuto una serie di problemi abbastanza gravi dalla questione di Arrow Capital, che comunque una volta fallita, insomma era molto esposto all'edge founder Arrow Capital, Genesis, una volta chiusi i battenti anche Arrow Capital, loro stessi insomma si trovavano con una carenza di liquidità, una serie di questioni molto rilevanti da affrontare, che non sono riusciti in sostanza a sistemare. Poi il colpo di grazia arriva nel novembre 2022 con la questione di Sam Bankman-Fried ed FTX e ovviamente con la questione di FTX colpo di grazia per quanto riguarda Genesis, sennò che proprio nella giornata di oggi capitolo 11 di ristrutturazione e tutto quello che c'è da fare. Allora questo tipo di questione può essere effettivamente impattante sui mercati e questa è un po' la domanda generalizzata. Tra le altre cose, Genesis fa parte comunque ragazzi di un altro dei tanti fallimenti che nell'anno 2022, questo in realtà è comunque un fallimento che viene dall'anno 2022 e ci siamo riportati nell'anno 2023, però fa parte di tutta una serie di fallimenti che ha colpito il settore delle criptovalute che avvengono quasi sempre nei periodi di bear market perché c'è il consolidamento del mercato. Si chiama così, non è un consolidamento di natura finanziaria e basta, anche di natura aziendale, di business ragazzi, quindi quello che state vedendo è successo migliaia di volte nei settori classici, nei settori old e proprio i bear market aiutano a consolidare tutti quelli che sono gli operatori dei mercati che non riescono a starci dentro per inefficienze varie ed eventuali vengono spazzati via ed è questo che sta succedendo anche al mercato delle cripto che è più tirannico da questo punto di vista perché è molto aggressivo in quanto c'è la questione anche legata concettualmente al discorso che non ha nessuna protezione no? Questo è un dato di fatto che però è positivo insomma, no? L'impatto di questo fallimento ragazzi andrà scontato proprio nella prossima settimana cioè questo fallimento di Genesis e questa fase avrà un effetto rebound ancora una volta sui mercati e la prossima settimana si scenderà. Questo è il problema che dovremmo affrontare ma ce n'è anche un altro. In questa settimana stessa c'è stata la questione legata per esempio alla BCE ragazzi con tutti i dati che sono stati, che sono usciti, questi sono i dati ragazzi che sono usciti questa settimana. I più importanti è una giornata di ieri che comunque non hanno scosso i mercati io me lo aspettavo perché lo avevo già accennato nonostante ci sono delle chicche che dovremmo andare a vedere ma poi la BCE ha fatto una serie di discorsi dicendo che in pratica per gli investitori non c'è scampo cioè non vi dovete aspettare che la BCE faccia pochi aumenti dei tassi, sarà rigida, forte, dura, durissima e si accossa a quello che è il pensiero della Fed. Quindi non solo in questa settimana c'è stato il fallimento di un'altra azienda importante del settore cripto ma poi abbiamo anche la questione che le banche centrali continuano a dire io sto fermo sulla mia politica di restrittiva sul denaro non vi aspettate niente di nuovo e soprattutto addirittura a BCE fa una clicca cioè dice agli investitori cambiate le logiche di portafoglio perché di qui non ci schioda nessuno allora fa un po' questa battuta dicendo siete voi che dovete cambiare proprio gli investimenti perché io non smetto di alzare i tassi. A questo punto come facciamo a comprendere se effettivamente la settimana prossima può essere iper rischiosa a causa di queste news? Ragazzi la questione è una e dovete imparare anche questo tipo di ragionamento i mercati reagiscono male alle news o se le news non sono scontate ma le news quasi sempre sono scontate allora la vera domanda che ci dobbiamo fare è Bitcoin sconta queste news? Scontava il fallimento di Genesis? Scontava la questione della politica della Fed e della BCE che comunque continua ad essere restrittiva? Secondo me assolutamente sì perché la questione di Genesis è legata è un fallimento che viene dallo scorso anno che già si sapeva nell'aria aveva smesso comunque di poter fare prelevare i fondi insomma in generale qual è l'impatto di un fallimento che già da novembre si sa perfettamente essere scontato dai mercati? Qual è l'impatto di una politica rigida da parte della Federal Reserve e della BCE che si sa essere scontata dai mercati perché l'avevano già indicata? Allora secondo me i mercati delle cripto in questa fase Bitcoin in questa fase non verrà impattato dalla questione Genesis a meno di situazioni straordinarie per le informazioni che ci siamo detti oggi che sono presenti oggi sui mercati non ci sarà questo impatto è anche vero però ragazzi che dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale che i mercati hanno sempre ragione è che quello che bisogna andare a guardare poi saranno i segnali sui grafici perché alla fine se questa cosa avverrà lo vedremo sui grafici ed è sul grafico che voglio farvi vedere un segnale molto rilevante che potrà indicare se effettivamente siamo in una fase di distribuzione per quanto riguarda Bitcoin e quindi dalla settimana prossima inizia una fase di ribasso e lo si vedrà solo e unicamente da questo segnale che andiamo a vedere oggi ragazzi proprio sul grafico di Bitcoin iniziamo da questo poi vi faccio vedere alla fine del grafico una super chicca che è qui non ve lo perdete perché l'ultimo grafico ragazzi è una super chicca veramente di grande livello vabbè allora andiamo qui oggi non faccio video sui grafici in maniera estremamente approfondita faremo soltanto un'analisi di questa fase distributiva allora che cosa sono le fasi distributive ragazzi sono delle fasi di barra di congestione che avvengono dopo l'incremento dei prezzi dopo una fase di forte incremento dei prezzi esattamente il contrario di una fase invece di accumulazione che è quella presente nel mese di dicembre quella che è avvenuta proprio in questa fase vedete questa è una fase di accumulazione il breakout della barra di congestione di accumulazione rally quindi molti stanno dicendo questa fase di Bitcoin questa fase qui che è iniziata in pratica dopo il giocicimento del livello di resistenza dei 21.500 è una fase di distribuzione esattamente anche perché in effetti ci sono stati una serie di segnali tra i quali per esempio questa zona di picco e questa zona di respinta in maniera istantanea come si fa a comprendere se verrà confermato intanto siamo nel breve periodo quindi questa fase di distribuzione è su time frame 1H questo significa orario perciò anche una fase di distribuzione di questo tipo avrà un impatto solo e unicamente per qualche giorno della prossima settimana perciò siamo in trading proprio puro ragazzi questo però ovviamente noi seguiremo poi quello che farà anche a livello di trading nella settimana prossima come si fa a comprendere se questa fase di distribuzione è una distribuzione perché c'è anche l'ambivalenza tra distribuzione e accumulazione cioè le fasi di barra di congestione post rally possono essere anche accumulazione in quel caso si chiamano fasi di ri-accumulazione cioè dove il mercato si ferma, respira e poi riparte mentre se è una fase di distribuzione il mercato si ferma non respira ma distribuisce e poi crolla quindi queste sono le due fasi insomma per la teoria di Tao quindi se ovviamente qualcuno di voi la conosce sicuramente allora come si fa a comprendere? dipende dal breakout di questi livelli quindi un breakout di questo livello qui 20.000 e 4-20.000 e 2 è teoricamente confermato non su un time frame orario perché su un time frame orario qui ragazzi siamo veramente troppo 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 lo potrà mettere in evidenza siamo troppo leggeri deve essere confermato secondo me anche su un time frame daily ovviamente questo quando avverrà vedrete immediatamente crollare il mercato quindi non è possibile usare questa cosa per operare perché siamo nel trading intraday perciò a livello di trading intraday per operare dovete usare tecniche da trader puro quindi dovete essere formati ragazzi e ricordatevelo perché cosa succede? nel momento in cui il mercato andrà a confermare questo breakout magari in una zona del genere inizia subito a crollare cioè non vi dà il tempo di entrare aspettando il giorno ecco questo ve lo dico per essere molto precisi se questo livello verrà a breccato confermato anche in close probabilmente si identifica questa fase di distribuzione e questo potrebbe scendere tra le altre cose ragazzi c'è anche una problematica che andremo a vedere proprio nella prossima settimana perché in effetti c'è una questione legata al concetto che settimana prossima inizia dal 23 di gennaio e come ben sapete siamo vicini a fine mese abbiamo passato la metà di gennaio e la seconda parte del mese come vi avevo spiegato più più volte è molto delicata e molto difficile per il mercato quindi in effetti c'è un dato di natura ciclica che potrebbe confermare il respiro dei mercati la prossima settimana e quindi una fase di candela rossa questa cosa però la vediamo lunedì nel video di approfondimento dei cicli mensili non andiamone oggi a parlare perché coinciderebbe con la questione del ciclo mensile ma vi faccio vedere un altro grafico che invece è molto molto rilevante che a proposito non vi ho spiegato la questione è legata invece al contrario se questa barra viene breccata al rialzo allora questa distribuzione si annulla e diventerebbe, sarebbe identificata come un'accumulazione quindi teoricamente poi da qui il mercato ha tutto lo spazio di continuare a salire ovviamente in una barra di accumulazione, barra di distribuzione in questo caso non c'è stato mai un segnale di vendita dal trend precedente quindi anche se siete long teoricamente dal trend precedente siete dei trader o degli investitori trend follower non c'è stato un segnale di chiusura delle operazioni quindi poi ognuno può fare take profit come vuole ovviamente non sono consigli finanziari ragazzi però dal punto di vista statistico non c'è stata nessuna segnale di uscita dai mercati questo ve lo ribadisco vi faccio vedere l'ultimo grafico stra importante ho registrato un video in academy di questo grafico dove spiego dettagliatamente proprio questa questione perché è interessante, questo è il grafico dei future del CME poi magari ne parliamo la prossima settimana anche su YouTube è il grafico del future CME ragazzi quindi quello del future chiuso il weekend guardate questa candela è un grafico settimanale ve la faccio vedere guardate questa candela di questa settimana allora chi è un amante di quelli che sono i pattern e la candlestick sa che questa candela si chiama Abandoned Baby che è una candela iperpericolosa non pericolosa iperpericolosa perché potrebbe innescare proprio una fase di ripresa di un trend al ribasso andatevi a leggere su Wikipedia in Traderpedia scusate la candela Abandoned Baby capite un po' quello che vi sto dicendo però ragazzi c'è anche una questione la questione è legata ai gap il gap sul CME e quindi dovuto alla questione che nella scorsa settimana il weekend Bitcoin è salito e quindi il CME è poi aperto il future lunedì già in gap c'è un gap guardatelo qui dov'è guardatelo qui dov'è quindi effettivamente nulla vieterebbe magari a Bitcoin quindi andare settimana prossima a chiudere questo gap fino proprio sul CME che sta intorno ai 19.500 e chiudere magari l'intero gioco proprio di ritracciamento così certo sono un migliaio e qualcosa di dollari quindi è un bel ribasso 5-6% ci sta quindi nella logica poi di quella fase di distribuzione allora vi ho fatto vedere questi dati lunedì però li andiamo ad approfondire abbiamo risposto alla domanda cosa aspettarci c'è sarà la fase di ripresa di bassista siamo in fase di distribuzione vi ho detto il livello che dovete guardare 20.004 e vi ho fatto vedere anche questo super grafico del CME con il gap che è interessante in questa fase io i gap non li considero tanto però in questa fase perché no ci può stare perché siamo sul livello tecnico ne parliamo meglio lunedì quindi per oggi è tutto e buon weekend a tutti ciao ragazzi